Gentili telespettatori, buona giornata. Il New York Times è l'ultimo dei media stranieri che parlano della siccità in Sicilia. L'ultimo, il New York Times, dopo tutti gli altri, dice dopo aver perso i raccolti a causa della siccità, la Sicilia teme di perdere anche il turismo. Parti dell'Italia meridionale stanno attraversando una delle peggiori siccità degli ultimi decenni. Le autorità dicono che stanno lavorando per salvare almeno il turismo. La Sant'Anchè risponde su Twitter nessuno nega il dramma della siccità in Sicilia ma in aridire anche il turismo quasi colpevolizzandolo come fa il New York Times aggiunge danno al danno per la Sicilia. Come vi dicevo nel video precedente a volte il silenzio è d'oro perché criticare i media stranieri perché parlano della siccità in Sicilia e non mi sembra che i media stranieri abbiano detto delle bugie, dicono che c'è una siccità incredibile mai vista prima. La Sicilia teme di perdere anche il turismo. Lei, ministro del turismo, scrive subito come si permettono a dire queste cose qua. Cosa vogliamo? Vogliamo vietare ai giornali stranieri di parlare dell'Italia? Parlano dell'Italia e parleranno dell'Italia sempre. Anzi, se noi andiamo a ribattere con questi tweet un po' sempliciotti, cosa succede? Che alimentiamo queste notizie e andiamo avanti all'infinito. Quindi facciamo poi un ulteriore danno che c'è già in partenza dalla siccità. A quel punto si scopre poi che solo il 30% dei fondi destinati a sistemare o cercare di fronteggiare la siccità, solo il 30% dei fondi sono stati spesi. 2 miliardi e 4 hanno speso solo 720 milioni per i problemi soliti che si sanno in Italia, quei problemi che portano a non riuscire mai a spendere i soldi destinati. Qua e là. Le opposizioni criticano la Santanchè con il suo tweet. Vediamo che cosa dice Bonelli. Bonelli è il primo a intervenire. Sapete loro verdi, sinistra, quindi il clima. In una nota il portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra dice appunto Bonelli la siccità devasta da settimane il sud, ma la ministra Santanchè scopre l'emergenza in Sicilia dal New York Times. Parla di servizi che inaridiscono il turismo, ma così dimostra solo che la desertificazione è anche culturale. Poi il leader dei Verdi fa ricadere la responsabilità sulle scelte del governo. Dall'inizio della legislatura chiediamo alla Premier Meloni di adottare politiche climatiche efficaci, in linea con le direttive scientifiche internazionali dell'ONU. La risposta del governo è stata il sabotaggio delle politiche di difesa del clima e la scelta di trasformare l'Italia in un hub del gas, con il contestuale blocco delle rinnovabili deciso dal ministro dell'agricoltura Lollo Brigida. E sull'acqua dice ora la siccità sta devastando il sud e le produzioni agricole sono drasticamente diminuite, mentre l'acqua degli invasi non viene utilizzata perché non ci sono i collaudi e di conseguenza finisce in mare. Allora, naturalmente l'opposizione cavalca qualsiasi cosa per dire che è colpa del governo Meloni. Se non vi ricordate, fino a qualche tempo fa era colpa di Berlusconi, poi tutto passò a colpa di Salvini, oggi è colpa di Meloni, qualsiasi cosa è colpa di Meloni. Il problema della siccità in Sicilia c'è da sempre. Io ricordo negli anni Ottanta che, per esempio, al centro della Sicilia l'acqua arrivava tre volte alla settimana, un giorno sì, un giorno no, e molta gente la accumulava in alcuni recipienti sul tetto da migliaia di litri per utilizzare quell'acqua nei giorni che non arrivava. Ecco, quindi è un problema che c'è da sempre, perché prima di tutto le tubature sono un collabrodo, la metà dell'acqua arriva al rubinetto, l'altra metà si disperde, quindi pensate, immaginate che la metà dell'acqua viene dispersa. Tubature collabrodo. Come fai a riparare le tubature di una regione? Cosa fai? Sollevi la regione e sistemi i tubi? Come fai? Un problema, diciamo, irrisolvibile. Come fai a sistemare i tubi di un'intera regione, di un intero sud? Quindi questo è il primo problema. Secondo problema è la siccità. Terzo problema è che l'acqua, che quando piove va messa nei bacini artificiali nelle dighe e poi va distribuita. Bonelli dice che mancano collaudi, non ci sono i collaudi e di conseguenza quest'acqua finisce in mare. Quindi il problema della siccità al sud, soprattutto in Sicilia, è gigantesco. Da sempre. Non è colpa di meloni. Naturalmente oggi governa lei e chiedono conto a lei. Hanno stanziato 2 miliardi e 4 per risolvere, non si sa bene in che modo, ma delle opere di contenimento. Come dice giustamente Musumeci, per contrastare la siccità lo devi fare quando piove, cioè devi tenerti l'acqua piovana per contrastare poi i mesi di siccità. Devi fare in modo di convogliare l'acqua piovana in dei bacini e poi utilizzarla quando non sta piovendo, per irrigare i campi e per l'acqua nelle case, con tutti i tubi che perdono il 50%. L'intervento di Bonelli è ovviamente fazioso, dire che la desertificazione culturale non vuol dire assolutamente niente. Sono frasi dette così contro il governo, ma senza una logica. Quindi quando lui dice, parla la Sant'Anché di servizi che inaridiscono il turismo, servizi giornalistici, ma dimostra solo la desertificazione anche culturale. Allora, come vi dicevo prima, la Sant'Anché faceva bene a non dire nulla, a volte il silenzio è d'oro. Le parole di Bonelli, anche le sue, non hanno senso, quindi le critiche della Sant'Anché ai giornali non hanno senso. Le critiche di Bonelli alla Sant'Anché che critica i giornali parlando di desertificazione culturale non ha senso neanche quello. Diciamo che io inviterei i due, Bonelli e Sant'Anché, a lasciar perdere. Facciamo silenzio e cerchiamo di capire chi deve in Sicilia provare a contrastare la siccità, cosa sta facendo. Quello è il punto. Lasciar perdere Bonelli che fa propaganda e lasciar perdere la Sant'Anché che fa propaganda. Grazie a tutti e arrivederci a presto.